Maltrattava e minacciava da mesi la madre chiedendole soldi per acquistare droga ma è finito in manette. I carabinieri della compagnia di Gubbio hanno tratto in arresto un 23enne eugubino ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza pubblico ufficiale. Tutto è partito dalla chiamata al 112 da parte della madre del giovane. La donna non riusciva più a controllare il figlio che a causa di problemi di tossicodipendenza continuava a minacciarla per estorcerle soldi per comprare sostanze stupefacenti. Comportamenti che, come riferito dalla stessa, sarebbero andati avanti per mesi e che l'avrebbero costretta in più occasioni a rivolgersi alle forze dell'ordine. I militari, giunti a casa della signora, sono stati aggrediti dal 23enne in evidente stato di alterazione psicofisica e dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo. Al termine delle formalità di rito il ragazzo è stato arrestato e, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Perugia Capanne in attesa del rito direttissimo.